Tragico epilogo nelle ricerche del piccolo Mattia Lucconi, il bambino di 8 anni disperso dall'alluvione che il 15 settembre scorso ha colpito le marche. Dopo 8 giorni di ricerche il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri intorno alle 16 in un campo adiacente al fiume Nevola, nel comune di Trecastelli. A dare l'allarme è stato il proprietario del terreno, il corpo era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione. Per il riconoscimento ufficiale servirà l'esame del DNA, ma quella maglietta blu descritta dai genitori nei giorni scorsi non ha lasciato molti dubbi ai soccorritori. Proprio ieri sua mamma, dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Senigallia, era tornata nel punto in cui Mattia era scomparso. L'ondata di piena lo aveva strappato con violenza dalle sue braccia. Continuano, d'altra parte, le ricerche della 56enne Brunella Chiù. Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza sono decine le unità in azione. Ai fini delle indagini, inoltre, i carabinieri forestali hanno acquisito altri documenti negli uffici della protezione civile. È arrivata invece dal consigliere regionale Luca Santarelli, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, la proposta di istituire una commissione di inchiesta relativa a quanto accaduto con l'esondazione del MISA. La richiesta formale è stata presentata ieri mattina e Santarelli fa notare che nello stesso giorno il governatore Acquaroli ha richiesto l'istituzione di una semplice commissione tecnica. Si tratta di una differenza sostanziale, evidenziato il consigliere, perché quella da me proposta, detto, ha lo scopo di ricostruire il percorso amministrativo, tecnico, finanziario e politico. Se non si raggiungeranno le 11 firme, come previsto dalla normativa vigente, la commissione non potrà essere istituita. Quindi Santarelli ha lanciato un appello alla responsabilità civile di tutti i consiglieri affinché condividano la proposta anche al fine di accelerare il risarcimento dei danni. Questa volta, ha commentato, vogliamo chiarezza a tutti i livelli. Oggi intanto la Giunta regionale ha deliberato la costituzione di un fondo straordinario di 4,2 milioni di euro per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'alluvione. Si tratta di fondi regionali, in attesa dei rimborsi del governo, condivisi con la Camera di Commercio delle Marche, che ha messo a disposizione un milione di euro. Potranno richiederlo le piccole e medie imprese fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato, oppure 43 milioni di attivo. Il finanziamento bancario massimo sarà di 150 mila euro con durata di otto anni, di cui fino a due di pre-ammortamento, con interessi zero e garanzia totale. Potrà essere estinto da eventuali contributi statali per i danni subiti. Questi aiuti della Regione potranno invece essere concessi entro la data dell'accessazione dello stato di emergenza.